venghino signori venghino altro giro altra corsa stiamo parlando di cosa di un circo di una barzelletta no stiamo parlando di una trattativa perché perché e ve lo dico subito ma prima di dirvelo mi raccomando iscrizione al canale pollicioni su e tanti tanti bei commenti perché rifiutata la seconda offerta del milan per il bruge per dal bruge per per scusate il caldo oggi sono 37 gradi ma sarà sta preparando insieme a maldini una terza offerta ragazzi una terza offerta e questa terza offerta sarà sui 30 milioni di euro anzi non sarà sui sarà 30 milioni di euro più 5 di bonus ovviamente dovranno essere bonus facilmente raggiungibili per convincere in via definitiva al bruge anche perché il leeds con i suoi 37 rimane sempre lì on top vero che il giocatore ha espresso la non preferenza per andare lì vuole andare solo al milan e quindi il milan prova avvicinarsi come dicevo io poc'anzi nel video precedente non basta che il milan metta sul piatto 28 milioni e dica io di più di questo non vado perché tanto ho il favore del giocatore è no è no è no ti devi avvicinare il milan si avvicina chiaro è che adesso parlano seriamente in un contesto del genere questo penso che sia il limite il limite plausibile per pagare un giocatore come Charles de Klettelar perché ancora tanto a dimostrare è vero che un buon prospetto futuro è un ottimo giocatore da doti indiscutibili ma se si va oltre queste cifre secondo me comincia a essere veramente eccessivo e a quel punto credo che anche Massara e Maldini possano rischiare di mollare il colpo e non gliene farei una colpa perché comunque va bene tutto ma essere perculati e come dicono loro partecipare ad Aste il milan non partecipa ad Aste il milan non vuole partecipare ad Aste ragazzi e non lo farà mai ok l'han sempre espressamente dichiarato però però l'importante è che si chiuda a massimo questa cifra e poi qualcuno più di i soldi non sono non sono i tuoi loro pagano quello che vogliono ma non è nelle corde neanche di Maldini e Massara ma è una cosa del milan abbiamo una società ragazzi che è molto molto intelligente molto molto e talmente intelligente che sanno già che c'hanno un Adli in casa un Adli che sta facendo molto bene attenzione un Adli che non è certo una scheggia per quanto riguarda la corsa e la velocità ma che ha buoni dote tecniche per quanto riguarda la corsa e la velocità ci potrà pensare poi Pioli a farlo entrare bene nei gradi del milan a migliorarlo anche come sta migliorando Brian Diaz che sta diventando l'incredibile Hulk che è cresciuto tantissimo a livello fisico intendo e quindi e quindi il milan sa quello che fa sa quello che fa se dovesse rinunciare a Charles de Cattelar sa sa quello che deve fare io ne sono convinto anche perché non sono sprovveduti e questo lo sappiamo discorso invece le ha o ragazzi le ha o il milan finalmente con il consenso di signoria sua con vostra sua uccello rosso Redbird George Cardinale Jerry Cardinale che George Cardinale e ha ballato ha ballato la blindatura di layout quindi a 6 milioni di euro netti più bonus per cinque anni e una clausola recessoria di ben 250 cucuzzoni 250 milioni di euro che nessuno mai pagherà infatti gli importanti sono i cinque anni cinque anni del contratto quello è fondamentale ed è fondamentale aver blindato un gioiellino come le ha o perché è il futuro e quindi spero a giorni dovrebbe dovremmo avere un risultato in tal in tal senso non si molla ancora attenzione la pista a Ziyech perché c'è stato un incontro negli ultimi giorni non molto non sponsorizzato ma molto molto imboscato fra Maldini Massara e i procuratori insomma quelli che sono quelli che curano gli interessi di Ziyech perché si vuole ragazzo Ziyech lo vogliono e il problema è che rimane semplicemente il problema il problema rimane comunque il nodo il nodo per quanto riguarda l'ingaggio e per quanto riguarda ciò che il Chelsea vuole avere dal Milan bisogna risolvere quei nodi per poi poter andare a concludere so che qualcuno di voi potrà sempre come e come sempre dire ah tante parole ci siamo stufati sempre tante parole da voi youtuber tutto quello che volete ma noi non siamo qui a far parole noi siamo qui a parlare siamo qui io Gabriele a parlare con voi di quello che è il mondo intorno al mondo Milan di quello che succede cerchiamo sempre di aggiornarvi in tempo reale anche se magari lo fa qualcun altro però ognuno lo fa a suo modo noi lo facciamo al nostro modo e gli altri lo fanno al loro modo quindi non siamo qui a raccontare chiacchiere siamo qui a raccontare quello che succede e a parlare con voi e a chiedere le vostre opinioni riguardo a quello che sta succedendo io comprendo capisco il disappunto che avete riguardo a quello che succede al mercato lento perché siamo veramente sembra di scaldare un diesel siamo veramente in una fase atipica atipica che caratterizza un po' però il Milan ragazzi è un po' caratteristico nel Milan una fase lenta la fase lenta in cui in cui in cui fa fatica a portare avanti le trattative perché perché forse sono molto più attenti su quello che fanno perché sapete molto facile e questa è la mia opinione è molto facile andare a buttare ti chiedo 40 boh tieni 40 portamela a casa piuttosto che andare a provare magari anche a risparmiare qualcosa o a considerare il valore reale del giocatore il Milan fa anche queste congetture prova anche questo senso però ripeto capisco il dissenso di tanti di tanti tifosi io rimango sempre positivo dal punto di vista che credo in quello che hanno fatto e che fanno Richie Massara e Maldini però comprendo anche comprendo anche che c'è una lentezza pazzesca una lentezza pazzesca non ci si muove non ci si muove e non si porta a una conclusione leggevo prima che onestamente le uniche le uniche conclusioni che abbiamo fatto fino adesso sono quelle dei sono quelli dei rinnovi acquisti florenzi ammirante singolato messias a titolo definitivo al crotino e di bocorighi svincolato questi sono questi sono poi gli acquisti fino ad ora a fronte di diverse eccessioni anche a titolo temporaneo o definitivo con contro riscatto come Colombo Duarte definitivo Auger abbiamo guadagnato dei soldi Castiglieco Romagnoli che si da cui non abbiamo guadagnato assolutamente nulla però abbiamo risparmiato 55 milioni di euro di ingaggi e questa è una nota molto positiva per questo io vi chiedo di avere pazienza avere pazienza aspettare ancora un pochino ok poi come ho già detto nella live lancio anche io le serie se le cose non devono andare come devono andare però è vero che il 14 di luglio ok va benissimo è vero che gli altri sommossi non hanno fatto niente ha fatto diversi acquisti e noi ancora nulla però io personalmente vi chiedo di avere ancora un po' di pazienza quanta non lo so la mia abbastanza grande prima o poi finirà anche la mia però voglio rimanere la convinzione che nei prossimi 5 6 7 giorni un paio di benedetti ragazzi arrivino ci vogliamo credere vi auguro come sempre buona giornata ragazzi sempre Forza Milan noi ci sentiamo domani e adieu ciao